grazie a tutti quanti soprattutto ad abilmente per l'invito e a voi che oggi mi state seguendo naturalmente il corso oggi è dedicato all'asciugherà realizzeremo una peonia definita su pasta di zucchero con colori alimentari spero che tra voi ci sia qualcuna che già ha seguito qualche corso oppure ha provato la nostra arte oppure anche ragazzi nuove interessate a proseguire questa nuova tecnica questo nuovo percorso iniziamo allora naturalmente oggi realizzeremo questa peonia dipinta su pasta di zucchero questa tecnica si chiama paint and cake di cui io sono fra le eccellenze nel mondo e naturalmente il cake designer è diviso in varie categorie abbiamo il modeling abbiamo i fiori abbiamo la pittura abbiamo la ghiaccia abbiamo diverse tecniche oggi una di queste tecniche la impareremo in questo corso allora i materiali di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno di un foglio di carta da forno abbiamo bisogno naturalmente del nostro foglio stampato in questo caso la peonia però voi potete scegliere poi poi in questo oggetto oggi realizzeremo il fiore abbiamo bisogno o di piattini di plastica o questi piattini per mettere i colori naturalmente i colori alimentati ce ne sono di diverse marco ognuno poi utilizza quella che più preferisce poi se no altrimenti li posso consigliare in qualcuna in questo caso sono in polvere i colori sono idrosolubili o liposolubili idrosolubili come dice la parola diluibili in acqua liposolubili si diluiscono con l'alcol alimentare quello che si compra al supermercato l'alcol al 90% quello che si utilizza pericolore per fare i liquori naturalmente si può utilizzare anche la vodka la grappa che se le avete in casa l'unico problema che rimane un po' più appiccicoso perché essendo un liquore ha un contenuto di zucchero mentre l'alcol evapura subito e avrete il disegno pulito, nitido senza naturalmente che resta leggermente appiccicoso ma non c'è problema all'inizio va bene anche un liquore che avete a casa naturalmente un liquore trasparente poi abbiamo bisogno di pennelli ed io sono molto formita naturalmente essendo una peccrice e abbiamo bisogno di una nostra lastra in pasta di zucchero allora la lastra in pasta di zucchero come si realizza? la pasta di zucchero normale che si trova in panetti minimo 250 grammi poi a salire viene stesa con un mattarello lasciata asciugare almeno per un paio di giorni se serve morbida si può utilizzare anche morbida allora iniziamo con il nostro dipinto io passerò naturalmente la telecamera e porterò la telecamera sulle mie mani in modo da farvi vedere i vari procedimenti iniziamo ecco qui siamo sul nostro foglio di pionia la prima cosa che abbiamo bisogno è il nostro foglio per riportare questo disegno sulla pasta di zucchero una tecnica molto conosciuta e usata è riprodurre il disegno con una matita perché questo? perché la matita è carbone quindi non è dannosa per la salute dell'uomo perché il carbone è un elemento naturale viene riprodotta poggiando il foglio di carta da forno sopra il disegno io una parte l'ho già iniziata per anticipare poi proseguiamo nel nostro disegno una matita con una punta un po' più grande un HB o una B in modo che sia questa è una 3B meglio ancora perché è più morbida quelle dure restano un po' più difficili e allora che cosa facciamo? ripassiamo i bordi una cosa importante è di ripassare il bordo con molta precisione allora questo è un fiore se noi sbagliamo di un po' non fa niente la natura non è perfetta ma se facciamo un ritratto un disegno molto minuzioso a quel punto noi abbiamo bisogno invece di tanta precisione quindi mi raccomando perdete un minuto di più nel realizzare il disegno ma la cosa importante è che sia molto preciso a questo punto finito il nostro bellissimo disegno passiamo al trasferimento sulla pasta di zucchero quindi prendiamo la lastra che si è asciugata il nostro disegno naturalmente volgeremo e posizioneremo il disegno sulla parte dove abbiamo disegnato quindi al contrario dove ci sarà naturalmente la matita lo posizioniamo sulla nostra lastra e qui andiamo a ripassare tutti i bordi naturalmente piano piano andiamo con la matita qui dobbiamo ripassare perfettamente sul disegno che noi abbiamo già realizzato perché se no non va a copiare uso carta copiativa quindi un passaggio veramente importante è riuscire anche se lo fate piano piano le prime volte non ha importanza ma l'importante è che lo fate con precisione cioè ripassare perfettamente sul bordo che voi avete già disegnato in modo che rimanga impresso sulla nostra lastra in zucchero questa tecnica viene utilizzata in questo caso su una lastra in pasta di zucchero ma può essere utilizzata anche sui biscotti che uno li realizza in ghiaccia e poi ripassare così il disegno per andargli a decorare ecco qui se avete qualche domanda approfittate mentre faccio il disegno qualche chiarimento e io vi rispondo altrimenti procedo e vado avanti una domanda invece che voglio farvi io è questa qualcuna di voi ha preparato il materiale e sta realizzando con me questa peonia oppure state solo guardando vediamo se qualcuna mi risponde Katia noi adesso lanceremo appunto questo sondaggio per capire chi sta realizzando con te appunto il tralcio di peonia e intanto appunto qualcuna Silvia e Laura hanno risposto in chat e dicono che stanno guardando perfetto perfetto ragazze perché poi mentre voi guardate se poi avete la curiosità potete ripetere tranquillamente a casa con i vostri tempi perché il video poi resterà vero? certamente poi lo ripeterò appunto anche alla fine del corso e tra 24 ore riceverete la registrazione del corso in modo che se qualcuno si è perso diciamo qualche passaggio oppure lo vuole rivedere con più calma potrà insomma rivederlo in ogni caso qui appunto posso dirti Katia che molte sono incuriosite della prima volta che si approcciano appunto al cake design io sono felice che sia la prima volta di queste ragazze sapete perché? perché così io ho un modo di avere un pubblico nuovo di solito sempre le mie ragazze le mie seguaci che mi seguono in tutti i corsi così è un pubblico nuovo allora a questo punto come vedete abbiamo riportato sulla pasta di zucchero il nostro disegno e come al solito io mi sporco sempre per questo abbiamo bisogno come vedete di un bel foglio di carta mani da tenere vicino perché quando andremo poi a dipingere per non sporcare la nostra lastrina sarà molto utile posizionare poi il pozzo tenetelo sempre vicino allora iniziamo ecco qui il nostro colore rosso iniziamo direttamente a colorare la nostra peonia il nostro fiore e poi pian piano faremo anche le foglie quindi abbiamo bisogno del nostro colore in polvere ne ho messo un pochino già qui un pennello allora una cosa di cui voglio parlarvi adesso sono proprio i pennelli allora naturalmente questi sono pennelli alimentari e li realizza un'azienda che si chiama Cerart Milano poi vi darò magari link li realizza solo lui diciamo soprattutto qui in Italia non perdono il pelo il pelo è sintetico ed è alimentare questi pennelli sono ottimi perché durano anni quindi oltre alla bravura dell'artista una cosa fondamentale ma questa in tutte le tecniche presumo siano i materiali ottimi allora ne prendo uno più piccolino naturalmente e adesso andremo a realizzare le nostre foglie ecco qui due misure allora il primo passaggio è a secco vuol dire che utilizzeremo il nostro colore semplicemente un polvere poi lo useremo anche diluito allora una cosa importante che non vi stancherò mai di ripeterla le ragazze lo sanno che le assillo è che una volta che si utilizza il colore sulla pasta di zucchero non è un quadro non si toglie più quindi di andare piano piano cioè utilizzare guardate nel piattino quasi non si vede pochino alla volta e poi man mano andare a scurire altrimenti realizzerete solamente una macchia invece così il fiore rimane potete scurirlo perché a schiarire poi non si non si riesce più cioè non si toglie più sulla pasta di zucchero ecco non è un dipinto quello che voglio dirvi Katia mentre colori Rosa ci chiede se il disegno deve essere passato su una torta com'è più comodo fare? su una torta la stessa cosa che ho realizzato io allora vi spiego due motivi per poterlo realizzare allora il primo è realizzare una lastrina come questa non troppo indurita magari fatta solo da un giorno lo ritagliate con il taglierino e lo andate a posizionare sulla torta altrimenti potete dipingere direttamente sulla pasta di zucchero della torta come preferite ma la tecnica è sempre la stessa che poi sia un fiore che sia un pupazzetto una scritta cioè qualunque cosa l'importante è la tecnica naturalmente tenetevi sempre sempre il disegno vicino perché è molto importante che cosa guardare soprattutto dove noi abbiamo le ombre e dove noi abbiamo le luci ok naturalmente la parte interna sarà sempre più ombrosa grazie Katia e Francesca si è appena collegata chiede magari mentre colori se è possibile rispiegare come è riportato la peonia oppure le diciamo semplicemente cioè o meglio le ricordiamo comunque che riceverà la registrazione del corso tra 24 ore però se nel frattempo mentre dipingi hai modo di appunto di ripetere così appunto Francesca magari lo farà con noi ecco grazie ciao Francesca benvenuta allora per trasferire un disegno qualunque sulla pasta di zucchero oppure su un biscotto o qualunque materiale edibile viene utilizzato allora si stampa prima il foglio del disegno che tu vuoi in questo caso noi abbiamo realizzato una peonia ma il disegno può variare secondo le tue esigenze posizioni sopra la carta da forno perché è alimentare con una matita perché la matita è realizzata in carbone quindi non nuoce alla salute dell'essere umano riporti tutto il disegno poi che cosa fai? dalla parte della matita naturalmente la posizionerai sulla lastra in pasta di zucchero sulla torta o sul biscotto e si ripassano tutti i bordi del disegno questo è un passaggio come ho detto già prima molto delicato perché se lo fate bene poi il risultato del dipinto dipende tutto da questo il disegno deve essere fatto con estrema precisione per avere poi alla fine un risultato ottimale allora come vedete io sto dipingendo il fiore molto delicato perché come vi dicevo prima si può scurire ma non si può più togliere quindi preferisco fare un passaggio alla volta e poi una volta che è finito andarlo leggermente a scurire con un altro secondo passaggio ma non non fatelo subito con una macchia intera guardate guardate quanto colore vi faccio vedere proprio una polvere fina 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 anche perché costano i colori e così non si spregano scherzo non è solo un fatto di un costo è un fatto proprio che si macchia invece il fiore quindi andiamo a intensificare adesso verso il centro del nostro fiore un pochino più scuro per creare la profondità a questo servono le ombre altrimenti sarebbero i disegni piatti come vi faceva Giotto naturalmente non abbiamo bisogno di intensificarlo per far uscire fuori il dipinto intanto io invito Lavinia appunto a fare domande visto che sta facendo con noi appunto il il corso se hai qualsiasi domanda Lavinia scrivi pure in chat non ti preoccupare anche se sei un po' in ritardo ti aspettiamo e niente se hai domande appunto scrivi pure certo il cake designer vi do un piccolo anticipo di quello che cos'è mentre io dipingo è nato in Inghilterra tantissimi anni già alla fine del 1900 del 1800 già c'erano addirittura i primi le prime torte però poi diciamo si è sviluppato negli anni molto negli anni 80 negli anni 90 poi è arrivato anche qui in Italia e oggi c'è praticamente il boom se andiamo a vedere ogni bambino vuole la torta col suo eroe preferito le le wedding cake le vogliono tutte sempre più scenografiche anche perché se andiamo a vedere in effetti le regine indiscusse di un evento sono il festeggiato che in questo caso o la sposa o per un compleanno o per una laurea quello che sia e la torta sono gli eventi diciamo che vengono più più attesi da tutto il diciamo da tutto da tutti gli invitati e addirittura ci sono gare in tutto il mondo vengono fatti dei festival in quest'anno ci sono stati molti online però di solito vengono fatti in presenza con festival dove ci sono dei premi e dove ci sono le migliori artiste in tutto il mondo e veramente vedete delle opere ragazze credetemi da rimanere a bocca aperta delle vere prote sculture di zucchero è una passione bellissima io parto come una pittrice ritrattista nella mia vita avevo un laboratorio a Campo dei Fiori che nel cuore di Roma per caso un'attrice mi chiese di dipingere un ritratto della figlia perché io sono una pittrice ritrattista come dicevo sulla torta e da lì è iniziata la mia avventura in questo mondo di zucchero e vi dico ragazze che le fiere sicuramente voi conabilmente ne partecipate a tutte le fiere che ci sono e la fiera è una droga lo dico proprio una droga perché è bella perché è bella stare tutte insieme perché è bello partecipare perché è bello condividere un sogno una passione che poi voi siete dell'arte manuale perciò che sia una paintwork che sia carta che siano collane e bigiotteria che sia anche qualunque altro materiale che voi utilizzate parliamo sempre solo di manualità quindi di passione Katia nel frattempo la vigna ci chiede se puoi ripetere se puoi rispiegare come sciogliere i colori in polvere questo ve lo faccio vedere tra poco perché faremo proprio questo passaggio grazie se puoi aspettare la vigna nel momento in cui lo realizzerò vi faccio vedere proprio manualmente più che parlare così lo capite meglio insomma ecco naturalmente il cake design non è solo pittura ci sono il modeling con i popazzetti ci sarà anche il corso vero? di modeling l'abbiamo organizzato vero cara? assolutamente assolutamente sì poi infatti in chiusura dell'evento vi ricorderò i prossimi i prossimi corsi appunto dedicati al mondo del cake design e poi ci sono i fiori bellissimi è un corso meraviglioso di fiori i fiori anche sono veramente sembrano veri ragazze realizzate con la sugar art insomma però è una tecnica che va molto in voga molto di moda proprio per la realizzazione di queste torte scenografiche meravigliose come ogni cosa ci vuole passione ci vuole pazienza ci vuole tanta arte però con corsi e con pratica perché poi naturalmente è solo una questione di pratica di farlo poi spesso si ottengono veramente ottimi risultati posso anche dire mentre dipingo che intanto la tecnica poi è uguale per ogni petalo che ci sarà a fianco ad abilmente negli stessi giorni l'Italy International Cake Show un evento dedicato alla pasticceria alla cioccalateria al cake design dove ci sono competizioni gare perciò se qualcuna di voi vuole partecipare a una gara di cake design poi può visionare direttamente il sito magari metteremo anche un link dove poter vederlo vero? esatto in concomitanza appunto con abilmente a fiera Roma dal 24 26 settembre ci sarà anche Italy International Cake Show e quindi una preziosa collaborazione insomma e siamo davvero felici non vediamo l'ora di rivederci in fiera di rivederci tutti in fiera è vero che non vediamo proprio l'ora di ricominciare spero che non troviate difficile questo essendo poi donne voi tutte diciamo con una buona manualità qualunque sia la tecnica che poi andate a realizzare non penso che lo troviate difficile poi realizzare queste sfumature è vero? aspettiamo vediamo se qualcuno risponde tu Katia devo dire sei hai una manualità che è veramente pazzesca perfetto si vedono molto bene anche le sfumature proprio lo faccio vedere anche più meraviglia beh giustamente facendolo da tanti anni è normale che poi un po' di manualità come loro nelle loro tecniche no? ognuno di loro allora a questo punto che noi abbiamo finito la peonia ora faccio vedere finito con la sfumatura da vicino vedete io ho solo sfumato con la polvere come vedete la nostra peonia adesso però dobbiamo intensificare un po' le ombre e il colore a questo punto come facciamo? il nostro colore in polvere che abbiamo utilizzato questa è la tecnica presso della diluizione del colore quindi metteremo un po' di alcol a fianco un po' ragazze vi spiego l'alcol evaporate velocemente se lasciate la bottiglietta aperta fra mezz'ora non c'è più niente quindi una volta che posizionate un po' di alcol qui vi raccomando chiudete subito la boccetta perché se no non vi rimane niente quindi prendiamo un po' di alcol vedete come diluisce subito il colore mettiamolo nella nostra polvere qui e andiamo a intensificare un pochino diciamo le parti più scure faccio con un pennellino più piccolo nel frattempo Francesca e Laura appunto rispondono e Francesca dice beh diciamo di sì ma lo chef ha una manualità favolosa confermiamo confermiamo invece Laura dice appunto che non ha mai fatto una decorazione come questa però appunto e che pensa di dover fare molta pratica assolutamente appunto vi invitiamo a chiedere a Katia qualunque sia diciamo il vostro dubbio se avete magari qualche consiglio anche per appunto per realizzarla al meglio e rispondo anche a Grazia sì invieremo il link con la registrazione del corso lo riceverete tra 24 ore e quindi se vi siete perse diciamo un pezzo del corso o qualsiasi passaggio potrete rivederlo esatto poi se avete delle domande nel frattempo io ve lo rispiego adesso anche non c'è problema sono a disposizione adesso che cosa sto facendo per dare un po' di forza alla nostra peonia con il colore molto diluito se no troppo forte sto intensificando la parte interna per dare proprio questa sensazione di profondità Laura chiede se si utilizza l'alcol da liquore sì l'ho detto anche prima forse Laura non c'era allora questo è l'alcol che si utilizza proprio per realizzare i liquori che si compra naturalmente al supermercato però se non hai questo alcol puro al 90% si può utilizzare anche l'alcol e i liquori naturalmente essendo una parte zuccherina restano semplicemente un pochino più appiccicosi un pochino più lucidi però si possono utilizzare anche i liquori questo è proprio l'alcol che si compra a bottiglia da un litro intorno alle 15 euro direttamente al supermercato poi ci sono anche i colori che si diluiscono in acqua cioè la stessa cosa che io sto facendo così con l'alcol la potete fare anche con l'acqua però una cosa che io sconsiglio sapete perché? perché la pasta di zucchero teme è una materia grassa contiene burro quindi vi sconsiglio sì si possono utilizzare però dovete essere un po' brave perché purtroppo teme l'umidità la pasta di zucchero allora io preferisco sempre che sia possibile utilizzare l'alcol perché evapora immediatamente guardate già non è asciutto non non dà nessun problema naturalmente tutte le cose manuali richiedono anche un pochino di tempo non è che tutto si può realizzare in due minuti però la cosa bella poi è il risultato finale no? di quello che siamo andati a realizzare veramente opere d'arte escono fuori ragazze io vi consiglio se avete tempo insomma se potete andate a visionare anche il mio gruppo che si chiama Worldwide Excellenze di Bleart dove voi li potete vedere artisti di tutto il mondo perché è un gruppo aperto proprio a tutto il mondo per avere un'idea di cosa si possa realizzare veramente con l'arte dello zucchero cioè resterete veramente esterefatti per quello che realizzano delle artiste veramente delle opere meravigliose infatti Katia dicevo appunto chi si approccia diciamo alla tecnica è veramente cioè si scopre un mondo perché appunto si realizzano come dicevi tu delle opere d'arte delle opere d'arte ci sono delle sculture ci sono delle ragazze che creano modeling poi vi do dei link giusto per farvi vedere che voi la guardate dice no non è possibile una persona sono torte cioè sono persone vere credetemi è assurdo una cosa una manualità meravigliosa e i festival se avete veniti ad abilmente naturalmente vi aspettiamo tutte e fate un salto anche al nostro festival perché siamo proprio uno di fronte l'altro vi rendete conto lì ci sono delle opere in gara se vi preparate potete partecipare anche voi opere in gara che resterete veramente esterefatti per quello che viene fatto allora questi sono dei pennarelli ma pennarelli alimentari quindi edibili si possono mangiare a che cosa serve? vi spiego subito questo allora quando noi facciamo un disegno e poi dobbiamo andarlo a ripassare noi dobbiamo prendere un pennello piccolo piccolissimo faccio un esempio guardate perché il bordo è importante da profondità finisce il dipinto allora che cosa fa? dobbiamo ripassare con il pennellino con una mano molto ferma naturalmente tutto il nostro disegno perché uscirà di più fuori verrà un lavoro fatto meglio da profondità si distinguono bene le linee in questo caso ci vuole un po' di tempo ma viene molto bene chi ha un po' di fretta oppure poca manualità come me una mano un po' ferma così ci sono delle scorciatoie chiamiamole così e sono i pennarelli naturalmente ci sono di tutti i colori c'è rosso c'è marrone verde giallo quello che volete adesso io l'ho preso nero ma c'è anche volendo marrone ci sono punte sottili punte grandi quindi potete ripassare vedete tutto il bordo tranquillamente con un pennarello ed è molto molto più veloce che farlo con il pennello questo vi aiuta più che altro a velocizzare la nostra la nostra arte per chi però naturalmente io vi faccio vedere sia con fatto a mano con il pennello oppure realizzato con il pennarello ma il pennarello è edibile perciò non vi dovete preoccupare perché si può utilizzare la cosa bella è che la velocità questo naturalmente è molto più veloce rispetto a realizzarlo con un pennello veramente credetemi ragazze scoprirete un mondo un mondo qui nella chat Katia ti fanno i complimenti dicono che è una meraviglia è veramente un'altra d'arte grazie e ci sono tantissimi attrezzi credetemi che vi aiutano poi nella manualità oggi veramente quando io ho iniziato dieci anni fa ragazze credetemi eravamo in poche ma non solo in poche erano pochi gli attrezzi io la pasta me la facevo a mano oggi le paste esistono di tantissime marche e di tantissimi tipi perché ogni pasta ha il suo utilizzo i fiori ci vuole la pasta fiori per la copertura la copertura per la ghiaccia ogni cosa ha il suo giustamente il suo stile il suo utilizzo ecco il suo utilizzo immagino anche che appunto dipenda poi dal materiale che si utilizza proprio come diciamo nei disegni nei dipinti diciamo che serve la matita giusta il colore giusto immagino proprio anche per il cake design sia così vero? sì è proprio così cara e credetemi oggi ci sono talmente tanti stampini che vi aiutano veramente tanto che anche chi ha poca manualità ci riesce benissimo perché hanno realizzato veramente stampini di tutte le forme ad esempio i pizzi merletti mamma mia ragazze sembrano merletti veri cioè cose meravigliose veramente oggi di tutto e l'utilizzo di questi attrezzi diciamo rendono molto molto più facile la lavorazione del cake design ecco qui intanto abbiamo la nostra peonia che poi adesso la finiremo naturalmente continueremo a terminarla intanto andiamo a realizzare la parte gialla che è la parte dell'interno del cuore della nostra peonia quindi mettiamo un po' di colore giallo eccolo qui Katia qui chiedono appunto se darai poi qualche nome o qualche consiglio sui materiali da utilizzare come no vi metto il link di tutti diciamo i vari tipi di fornitori delle aziende che producono i materiali così che voi avete anche un pochino per andare a vedere cosa esiste in questo mondo ecco cosa c'è tante cose le troverete anche direttamente in fiera a settembre io spero che qualcuna di voi abbia sia abbastanza folle come me da proseguire in questi mesi magari un corso una prova e si possa anche iscrivere a una competizione chissà che dice anche perché immagino ci siano vari livelli vero Katia eh immagino ci siano vari livelli per quanto riguarda poi anche le competizioni ci sono tantissime quelle categorie c'è di tutto perciò ognuna di loro può assegnarsi c'è il wedding c'è il modeling i fiori anche le paste polimeriche ci sono se qualcuna di voi già le utilizza allora adesso inizio la foglia diamo comunque una base gialla perché questo perché comunque ogni foglia comunque di sé ha un pochino di giallo nel suo cuore poi la finiamo con il verde ok quindi passiamo il colore molto molto diluito per creare un po' la nostra foglia e poi l'andremo a sfumare con il colore verde ecco qui intanto cambio piattino e iniziamo il verde come orario ci siamo sì sto andando abbastanza bene come orario siamo nei tempi non mi risponde siamo nei tempi come orario sì 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 certo sono le 18.10 quindi hai ancora un bel po' di tempo hai ancora un'oretta ah beh non ti preoccupare lasciamo poi un altro po' di tempo un quarto d'ora così perché se appunto il pubblico vuole farti qualche domanda o tu vorrai diciamo appunto rispiegare qualche concetto per qualsiasi cosa un passaggio finale dove facciamo un piccolo riepiloco di quello che abbiamo fatto oggi così chi non è stato presente all'inizio lo può vedere va bene che dici allora adesso andiamo a realizzare la nostra foglia le nostre foglie perché sono tante che cosa faremo un passaggio molto molto leggero dove andremo a dare un po' di luce un po' di ombre cioè un po' casuale non è che deve essere la natura è fatta così non è non abbiamo tutto abbiamo degli spazi più chiari degli spazi più scuri adesso iniziamo con la parte chiara con un verde chiaro poi andiamo a scurire tutte le varie parti naturalmente con il pennello se la foglia è in verticale non la fate in orizzontale cercate sempre di seguire comunque sia l'andatura della foglia del fiore di quello che sia ok sembra proprio un dipinto ad acquerello sì vero hai ragione l'effetto in effetti è proprio quello poi se andrete appunto a curiosare nella pagina di Katia Malizia che vi abbiamo appunto messo nella chat e anche in evidenza vedrete che capolavori che realizza beh sì ho realizzato io sono faccio Alice TV sono lo chef di Miss Italia e ho realizzato a parte Alice TV in questo momento siamo un po' fermi perché giustamente con le riprese però spero di riprendere a breve faccio torte per grandi eventi solo grandi eventi ho fatto appena finito un evento poi se volete visionare la mia pagina la trovate per la Jaguar per attori attrici naturalmente trovate tutto sulla mia pagina Katia adesso ho io una curiosità dimmi ti chiedo qual è la torta più diciamo difficile che hai realizzato quanto tempo ci hai messo c'è un tuo diciamo masterpiece beh diciamo quella di Miss Italia è stata una bella una bella opera perché l'opera intanto era grandissima non tra le più grandi che ho realizzato ci sono state anche più grandi però sui quattro lati se l'andate a vedere ci sono dipinte le quattro Miss Italia degli ultimi decenni quindi realizzare quattro ritratti venti peonie perciò c'è di tutto ci sta la ghiaccia ci sono i fiori ci sono i dipinti veramente un'opera meravigliosa e poi c'è la tutta sotto la parte vera che era che era commestibile oltre a bella perché queste sono pure torte che poi vengono anche mangiate allora di solito si fa così allora la parte sopra è scenografica quindi viene fatta tutto con la base interna di polistirolo ricoperta in pasta di zucchero tutta lavorata e decorata la parte sotto invece viene viene realizzata vera che è la parte che viene mangiata e credetemi ragazzi è una torta del genere pesa intorno ai 20 kg perché la pasta di zucchero pesa tantissimo veramente tanto e quindi farla tutta vera non è possibile perché crollerebbe allora vengono utilizzate questi supporti interni in polistirolo tutta la parte alta diciamo è scenografica e la parte vera poi è solo la parte in basso ecco qui la peonia è stata realizzata spero che vi sia piaciuta effettivamente mi chiedevo spesso se quelle torte così appunto grandi e pesanti fossero tutte diciamo fatte di materiali tutte vere perché peserebbe talmente tanto che crollerebbero su loro stesse veramente credimi la pasta di zucchero è molto molto pesante ma vengono fatte ma guarda che molte torte sono tutte finte non sono neanche una parte vera vengono fatte alle spose tutta finta e poi una vengono serviti i dolci direttamente a tavola ma la torta è interamente finta poi ci sono quelle invece con la base vera e la parte fine dipende dipende molto da come sono state realizzate allora a questo punto andiamo eccola qua questa è la torta di Miss Italia esatto dalla regia hanno proiettato la torta che hai fatto per Miss Italia sì veramente un orgoglio per me perché a parte bello l'evento una bella soddisfazione insomma sono cose importanti però e quanto ci hai messo a realizzarla un mese caspita pensa che ci sono le asiatiche vi racconto questa cosa durante le competizioni parlo delle competizioni che noi facciamo nelle fiere che lavorano tutto l'anno per fare un'unica torta quella che presentano terminata la fiera iniziano già quella per l'anno dopo un anno però credetemi non se ve lo dico non ci potete credere fino a che non vedete non c'è un millimetro non un centimetro che non è decolata minuziosamente ci sono delle cose che valore gli puoi dare non c'è un valore perché sono talmente belle che non puoi dare un valore economico a un'opera del genere quali sono passate certo immagino intanto do il benvenuto a Serafina appunto che si è connessa da poco e per rivedere l'evento tra 24 ore riceverai appunto una mail con un link di registrazione di tutto il corso così appunto potrai rivederlo nei prossimi giorni intanto vi ringrazio ragazzi per essere venute oggi qui spero che insomma vi siate incuriosite un pochino di questa nuova tecnica e abbiamo anche altri corsi che sono di modeling che di fiori in questi giorni li realizzeremo spero che tutti voi lo possiate seguire perché vederne uno solo magari è bello ma seguirli tutti e tre sarebbe ancora più carino per incuriosire per guardare questa tecnica vi dico che non esiste un tuttologo ossia vi spiego noi tutte le cake designer si sanno fare diciamo un po' di tutto come tecniche ma poi in realtà ognuna di loro è specializzata in una tecnica io nella pittura c'è chi fa il modeling chi fa la ghiaccia chi fa ad esempio vi posso dire che altre tecniche ci sono modeling ghiaccia pittura fiori queste sono le tecniche che vengono più utilizzate e naturalmente vi dico che ognuna è molto molto esperta in una categoria quindi se volete proseguire questo diciamo questa passione fatela provate tutte e quattro le tecniche e poi naturalmente orientatevi dove quella dove siete più portati allora a questo punto la nostra peonia è terminata sembra anche più chiara forse dal computer invece vi assicuro che è bella intensa forse è un po' anche il video però si capisce penso che sia venuta abbastanza bene che dite? assolutamente vediamo molto bene le sfumature devo dire sono veramente meravigliose i toni del verde appunto che hai utilizzato ma anche proprio nelle peonie si vede molto bene assolutamente un capolavoro e Sabrina ci chiede poi se ci mostrerai come tagliare appunto diciamo l'immagine allora con il taglierino che adesso ce l'ho di là ma il taglierino viene fatto così viene fatto così allora un taglierino classico un curter questa non la posso tagliare perché si è rigidita troppo perché l'ho fatta già da tre giorni e naturalmente si spezzerebbe ma con il taglierino tutto attorno viene ritagliata la nostra pasta un lavoro certosino però è quello che poi utilizzate lo potete attaccare con acqua con l'alimentare direttamente sulla torta oppure fare una lastrina come questa e attaccare direttamente questa che si arrotonda adesso questa è troppo rigida perché si è asciugata direttamente sulla porta come vedete ed è molto bello il risultato lo vedete è meraviglioso veramente molto bello ti faccio io una domanda appunto con il cutter poi i dettagli diciamo si rischia un po' di perderli oppure appunto no 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 assolutamente non si rischia se la tagliate potete anche tagliarla prima e dipingerla dopo potete fare viceversa cioè prima riportate il disegno tagliate tutta la sacoma e poi iniziate a dipingere oppure la tagliate dopo dipinta ma assolutamente non succede assolutamente nulla tranquillo lo faccio spesso nelle mie report grazie Katia e tu fanno tutti i complimenti comunque qui in chat appunto e ci tengo a rinnovarli ma anch'io ti faccio i complimenti perché è veramente bellissima grazie grazie allora naturalmente si parte faccio un piccolo riepilogo va bene posso ragazze così per chi si è collegata dopo assolutamente sì cosa abbiamo realizzato allora si parte naturalmente dal foglio dal soggetto che volete realizzare noi oggi abbiamo fatto questo traccio di teoria ma voi potete utilizzare anche un cartoon un pupazzetto cioè qualunque soggetto volete lo stampate a colori su un foglio poi prendete la carta da perno la posizionate sul foglio così vabbè io perché l'ho già disegnato e con una matita ho utilizzato 3D perché è molto morbida fa un bel tratto che poi lo possiamo riportare sulla pasta di zucchero ripassate tutto il disegno questo è un passaggio veramente fondamentale ragazzi perché qui abbiamo fatto un fiore ma potrebbe essere un ritratto perciò anche un millimetro poi può cambiare tutto giustamente quindi è un passaggio che usate più tempo possibile per farlo perfetto una volta che avete passato ripassato tutto il disegno con la matita e della matita è in carbone quindi alimentare non succede niente non è per la nostra per l'uomo prendiamo il nostro foglio in carta disegnato su carta da perno lo posizioniamo sulla nostra lastra e andremo a ripassare sempre con la matita tutto il nostro disegno quindi si andrà a calcare con una carta copiativa sulla nostra lastra di zucchero a questo punto la lastra inizieremo a dipingerla che cosa abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato un piattino oppure i piattini di plastica vanno bene per mettere i colori abbiamo utilizzato l'alcol alimentare allora quest'alcol si compra al supermercato circa 15 euro un litro è l'alcol che viene utilizzato al 90% per fare i licori ma se a casa avete la vodka o la grappa va bene lo stesso l'unica differenza la vodka e la grappa hanno un contenuto di zuccheri che cosa fanno? si dipinge lo stesso ma evapora meno e rimane un pochino appiccicoso però va bene lo stesso all'inizio abbiamo bisogno di colori alimentari ci sono tantissime marche italiane e straniere ognuna abbastanza buona la maggior parte sono realizzate con sostanze naturali altre con sostanze chimiche ma non uccide l'uomo perciò colori alimentari naturalmente si trovano anche in gel e anche in pennarelli eccole qua questi sono pennarelli alimentari e questi sono in gel il gel va diluito solo con l'acqua non con l'alcol poi abbiamo bisogno di una cosa importantissima i pennelli ecco il pennello perdo non è giusto però vi spiego un attimo il pennello deve essere un pennello alimentare l'azienda che gli fornisce c'era che vedete scritta qui non so se si legge ma poi vi do tutte le indicazioni vedete si si vede abbastanza bene Katia di Mart Milano che fa pennelli edibili dove noi possiamo utilizzarli sulle torte su qualunque un biscotto dove vogliamo naturalmente non perdono il pelo il pelo è sintetico non ci sono problemi costano un pochino questo è vero però vi assicuro ragazzi che io questi ce lo danno c'è un investimento iniziale che serve poi però per poter lavorare bene allora vi spiego un pennello spennacchiato tipo questa punta non riuscirete mai a fare un tratto dritto anche se io sono bravissima sono brava anch'io non riuscirei a fare una linea aperta con una punta che è spennacchiata aperta diciamo così poi di che cosa abbiamo bisogno abbiamo detto tutto quello per oggi per il corso di oggi questo è il materiale di cui abbiamo bisogno e la regerizzazione della peogna che abbiamo fatto prima secco con i colori in polvere sfumati e poi le rifiniture più piccole le abbiamo realizzate con lo stesso colore di polvere ma di unito con l'alcol e qui andiamo ad accentuare un pochino i dettagli tutti i bordi sono stati fatti con un pennarello alimentare ma potete farli anche con il pennello un pennello piccolo piccolo numero zero e il colore in polvere diluito con l'alcol spero di essere stata chiara se ci sono domande dubbi naturalmente io sono qui ditemi pure altrimenti allora ti leggo la domanda che fa Rosa e chiede se è preferibile dipingere sulla pasta da zucchero secca oppure va bene anche quella diciamo appena stesa o comunque ottima domanda Rosa allora sulla pasta da zucchero asciutta naturalmente è molto molto più facile che cosa faccio io realizzo perché è dura perciò realizzo le torte le copro per esempio la mia base in polistirolo io la copro in pasta di zucchero la faccio asciugare e poi lì vado a dipingere il problema qual è che quando noi abbiamo la pasta di zucchero morbida il problema è che se andiamo un pochino a incidere un po' di forza per questo che la pressione è una delle caratteristiche importanti della pittura e la quantità di colore possiamo anche fare un segno l'incavo così non succede niente diciamo che è asciutta e più facile però si può tranquillamente fare con la pasta da zucchero che abbiamo appena coperto una torta la si può dipingere basta regolare la pressione altrimenti come ho detto io lo facciamo su una lastrina leggermente asciutta questa è troppo asciutta e non si piega possiamo fare il nostro clint per poi andare a posizionare il depinto tutto attorno alla nostra porta va bene? penso di essere stata assolutamente sì invito appunto le partecipanti a fare domande che Katia appunto è qui a disposizione risponderà e darà diciamo appunto se avete qualsiasi dubbio lei vi darà risposta sì naturalmente per tutti i materiali che io ho utilizzato se volete metterò del link dove voi potete vedere insomma cosa è il nostro mondo e che tipi di materiali esistono naturalmente ci sono stampini migliori di stampini per realizzare ogni cosa pizzi merletti biscotti tagli a biscotti decorazioni floreali decorazioni barocche veramente ragazzi c'è di tutto anche chi non ha manualità oggi una torta la può fare perché con gli stampini c'era veramente veramente di tutto anche gli stencil per riportare il disegno sulla pasta di zucca c'è proprio tutto addirittura ci sono le sagme per fare le bamboline chi non sa fare il modeling con la pasta di zucca abbiamo un'altra domanda grazie a chiede se i colori sono in polvere o in gel quelli liquidi non vanno bene quindi appunto la differenza un po' tra questi tipi di colori il colore liquido non esiste esistono i colori in polvere che vengono diluiti idrosolubili con l'acqua e liposolubili con l'alcol esiste il colore gel ma il colore liquido proprio quello che trovate al supermercato nelle fialettine no per noi non è un colore quello è un pagliativo però esiste il gel che viene diluito con l'acqua e hai una sorta di acquerello questo sì e poi naturalmente ci sono i pennarelli di tutti i colori di tutte le forme punte larghe punte piccole sottili spessi come volete benissimo quindi direi che tu colori è un mondo talmente vasto ragazzi che dovrei parlare per ore perché ogni naturalmente ogni tipo di superficie ha i suoi colori quindi Katia direi appunto che tu consigli la tecnica che ci hai spiegato oggi quindi appunto i colori in polvere e poi diluirli con il liquore o la grappa o esatto con l'alcol chiedo scusa esatto appunto che troviamo poi al supermercato e Laura chiede se questo tipo di decoro può essere fatto anche su ghiacci reale sì esatto l'ho detto anche all'inizio la stessa tecnica viene utilizzata anche sulla ghiaccia reale per decorare i biscotti la stessa quindi è una tecnica appunto che si può riprodurre in più diciamo perfetto allora Graziana ci chiede appunto fa una domanda e dice che non ha mai utilizzato la pasta di zucchero quindi chiede appunto come è possibile modellarla ok allora intanto faccio un piccolo anticipazione sulla pasta di zucchero pasta di zucchero ce ne sono per chi c'è la pasta di zucchero da copertura che serve a coprire le basi di polistirolo o la coltaviera c'è la pasta di zucchero per fiori si chiama la gum pasta perché è più gommosa asciuga molto rapidamente mentre la parte di pasta di zucchero avendo una quantità di burro rimane più morbida anche perché magari se realizzi la torta il giorno prima deve rimanere morbida anche il giorno dopo con la cia se no la torta perciò sono proprio cose diverse e la pasta da modeling la pasta da modeling ha una quantità superiore di burro perché la si deve proprio modellare e realizzare il pazietto la faccia il corpo insomma il mind quello che sia quindi una cosa fondamentale utilizzare la pasta per le tre cose diverse non utilizzare una per tutte non ci riuscirete quindi per ogni cosa ci vuole la sua pasta se volete fare un modeling una pamboletta ciò che sia un post modeling di fiori pasta fiori la cia velocemente si stira sottile sottile così come questo foglio e la pasta da copertura invece serve per coprire tutte le torte che poi le vengono mangiate ogni pasta ha il suo utilizzo poi naturalmente c'è anche il cioccolato il cioccolato plastico il cioccolato da copertura ed è buonissimo poi si parla di umidità mare montagna ci sono le paste summer è un mondo veramente molto vasto e per questo ci vuole un po' di esperienza e corsi un po' più aggiornati però ci sono paste di tutti i tipi e noi ti ringraziamo Katia che ce lo stai facendo scoprire Silvia a tal proposito chiede se i colori in polvere sono le lacche liposolubili o se sono idrosolubili allora la lacca è una cosa il colore in polvere è un'altra esistono anche le lacche soprattutto per colorare il cioccolato sono entrambi sia liposolubili come già vi ho detto prima e idrosolubili perciò l'idro si diluiscono con l'acqua questi sono liposolubili e si diluiscono solo con l'alcol o se non ha l'alcol pure al 90% va bene anche i libori come vodka e grappa benissimo grazie qui ti ringraziano appunto nella chat io voglio ricordarvi appunto gli ulteriori corsi che presenteranno sempre appunto Katia e la collaboratrice appunto Rosalinda Mangia Pane di Italy International Cake Show domani nello specifico domani mattina alle ore 9.30 appunto ci sarà il corso di Rosalinda sempre di cake design sulle rose in pasta di zucchero bellissima perché lì possiamo vedere proprio come si realizza una rosa con la pasta naturalmente per fiori per realizzare scenografica per utilizzare per qualunque tipo di che sia un wedding un compleanno un battesimo la rosa si può utilizzare su qualunque tipo di torta puoi prima allora di fare appunto un recap anche dei prossimi degli altri corsi Silvia ci chiede se questi appunto che abbiamo utilizzato oggi di colori sono appunto idrosolubili sono liposolubili già ho detto prima esatto liposolubili perché l'abbiamo diluiti con l'alcol con l'alcol benissimo benissimo Katia qui rinnovo i complimenti ti scrivono grazie che sei appunto bravissima invito le ragazze appunto a fare qualsiasi tipo di domanda perché come vedete Katia appunto è più che felice appunto di rispondere di dare risposta ai vostri dubbi e poi proseguo appunto abbiamo un altro corso di Katia sarà con noi appunto Katia sabato e farà appunto le rose in wafer paper giusto corregimi se mi è la stessa tecnica chi di voi fa i fiori in carta è la stessa tecnica è solo che realizziamo l'ostia la wafer paper è praticamente l'ostia quella che mangiava la domenica in chiesa è la stessa cosa però utilizziamo quasi la stessa tecnica di chi fa i fiori gigant flow e i fiori in carta grandi o piccoli insomma in cartoncino perfetto quindi appunto sarà con noi dalle 17.30 alle 19.30 e poi domenica nuovamente invece con Rosalinda che ci farà appunto il modeling Milu e quindi andremo a realizzare Milu appunto e vi ricordo che di iscrivervi siete ancora in tempo appunto di iscrivervi sono tutti corsi gratuiti perciò assolutamente vi aspettiamo abbiamo un'altra domanda di Laura che chiede come possiamo farci da sole la pasta di zucchero allora Laura te lo dico subito le ricette le trovi su internet tranquillamente ma io la sconsiglio te la sconsiglio perché ho iniziato a farla io perché non c'è aziende quando ho iniziato io 12 anni fa non c'erano tante aziende che la facevano la producevano oggi ti posso assicurare che la pasta di zucchero comprata a parte che a costi ti conviene comprarla che andare a prendere lo zucchero a velo perché costa di più realizzarla comprarla direttamente in panetti addirittura più piccola di 250 erano così fino a salire perché ci sono delle cose che degli alimenti degli antifungicidi cose che non possiamo mettere noi però servono per un utilizzo migliore della pasta soprattutto se poi la pasta deve essere mangiata dalle persone quindi non ti consiglio di farla in casa se vuoi trovi su internet tranquillamente ricetta di pasta di zucchero la trovi ma ci sono tantissimi negozi che la vendono la vendono anche dal supermercato io ti consiglio di utilizzare la pasta però comprata è sempre meglio e poi ragazzi vi dico una cosa chi è interessata anche un domani a proseguire questa cosa c'è l'HACCP che si prende tramite le ASL ed è l'autorizzazione alla manipolazione di alimenti costa 70 euro una stupidaggine però anche se si fanno le torte per la mamma per la uggina per la cognata per l'amica almeno l'HACCP io consiglio di prenderla così comunque state tranquille è un'autorizzazione a toccare a manipolare gli alimenti benissimo grazie Katia rispondo visto che la regia appunto ha già risposto a Rosanna ci tengo appunto anch'io a risponderle e a dire che tutti i corsi appunto e le informazioni per iscrivervi ai prossimi corsi le trovate sul sito di Abilmente nella sezione di Abilmente Academy che troverete nella home del sito potete selezionare il giorno di interesse o meglio ancora il mondo di interesse quindi c'è il cake design piuttosto che il bijou il ricamo e tutti i nostri mondi appunto che sono rappresentativi di Abilmente e lì potrai trovare diciamo tutta la lista e iscriverti esatto io spero che il vostro il mio corso vi sia piaciuto che vi abbia incuriosito un pochino tanto da magari seguire poi qualche corso e magari anche chissà partecipare all'Ital International che vi show a settembre magari qualcuna di voi chissà ci sono tante che a voi si appassionano in questi mesi però ragazzi vi aspetto spero che vi sia piaciuto vediamo qualcuno di voi se avete qualche altra domanda non c'è problema tanto io sono qui a disposizione oltre a ringraziarti appunto Francesca chiede se è possibile appunto ricevere il link dei materiali che hai utilizzato magari per questo potete scrivere eventualmente direttamente a Katia o comunque esatto noi li pubblicheremo poi appunto magari Katia ce li fornirà perché ha utilizzato diverse diciamo diversi appunto materiali esatto e diverse aziende se vuoi appunto come questa ad esempio un po' più specifica magari dei vari materiali sì seguitemi sulla mia pagina e io poi vi dirò mi mandate un messaggio sono la ragazza che ha seguito su Abilmente e io vi darò vi scriverò tutti i link tutti i materiali che ho utilizzato benissimo qui appunto ti ringraziano e io ti chiedo di farci vedere nuovamente appunto quello che abbiamo realizzato oggi durante il corso il calcio di Peonia che meraviglia è proprio bellissima veramente oggi ho realizzato vi vado a prendere una tortina siete curiosi di vederla? assolutamente sì vai Katia ti aspettiamo grazie nel frattempo la regia appunto sempre pronta pubblica ha pubblicato ripubblicato appunto la foto della torta che hai fatto per Miss Italia sì ok grazie regia allora questa è una cosa che ho realizzato per Chanel Miss Chanel infatti l'ho chiamata dove l'ho realizzato queste sono le sagomine vedete di pasta di zucchero come questa solo che l'ho ritagliata a forma di scappa poi posizionata qui sopra questa è la sagoma invece del ritratto di Miss Chanel ammorbidita l'ho realizzata avvolgendola poi attorno al polistirolo ricoperto in pasta di zucchero vedete e queste sono smalte rossetto boccettina di profumo tutto realizzato su pasta di zucchero e poi dipinto bellissima qui ti fanno veramente i complimenti e Katia quindi diciamo il tipo di pasta di zucchero che hai utilizzato immagino sia differente dalle scarpe rispetto a quella che come spiegavi prima dei vari tipi di pasta di zucchero vero? di zucchero da copertura e quindi più modellabile il corretto? no la pasta di zucchero da copertura è solo per coperture cioè per più le torte la pasta modellabile è quella con cui ho realizzato i fiocchetti e con cui ho realizzato magari il fiocchettino nero che guardate qui si modella queste qui sono le paste modellabili perché io le ho si asciugano prima la pasta la copertura ci mette molto più tempo ad asciugare perché è quella che poi viene utilizzata per la pasta che si mangia ci mette più tempo molto più modella queste invece si asciugano velocemente gli dai la forma le dipingi le attacchi e sono già asciutte in poco tempo vedete? bellissimo faccio la nostra per fiori anzi vi faccio vedere anche il fiore che realizzeremo per l'anno sì ce l'ho aspettato prossimo corso intanto veramente riusciamo a vedere proprio i dettagli la cura dei dettagli sembra veramente un dipinto ecco qui allora questa è una farfalla guardate che meraviglia realizzata con l'ostia questo è un fiore realizzato tutto in ostia guardate che bello lo faremo la prossima sembra carta da quanto è è come l'ostia che mangiamo e questa è una farfalla realizzata in ostia guardate che bello complimenti bellissime ecco qui e questa la realizzeremo bianca con i bordi in oro a corso della della rosa che faremo il prossimo appuntamento esatto sempre con con Katia che è appunto bellissima niente io a questo punto Katia se il pubblico non ha ulteriori domande aspettiamo un attimino altrimenti direi di concludere oppure se tu ci tieni magari non so a sottolineare qualche qualche concetto oppure qualcosa appunto di beh quello che voglio dire direi che è un mondo veramente dolce parliamo di zucca nel senso che è appassionato è bello fare le torte realizzarle da soddisfazione poi quando le hai finite le persone gli fanno i complimenti e può servirti al complano della nonna della bambina di una sposa però da tanta soddisfazione ma queste donne che quindi la manualità ce l'avete già nel sangue perché ognuna di voi penso che abbia una categoria proprio sua che sia collane penchwork carta o qualunque altra cosa insomma assolutamente un po' di manualità già è in voi poi realizzarle guardate veramente da una soddisfazione enorme quando la persona che te l'ha chiesta la consegna rimane senza fiato domenica ho realizzato il compleanno di Maria Moncè l'attrice l'ho realizzato una volta a un suo ritratto è rimasta felicissima naturalmente queste cose ti gratificano più del prezzo che ti possono dare